ciao a tutti siamo roberto e anita e maya e oggi vi parleremo di un ristorante vicino a casa che ci piace tanto andare che è la fabbrica dei sapori che si trova a castellanza la fabbrica dei sapori si trova a castellanza si trova in altri paesi per esempio a pavia milano a bresso bucinasco ed è un ristorante è stato il primo leukinit in italia dove possiamo trovare una varietà una varietà praticamente infinita di buffet sono almeno tre isole una con altri pasti prodotti alla griglia i dolci i sushi i primi e secondi su altre isole e poi la roba cruda e poi la roba cruda e più in tutti i carrelli frutte quant'altro è un ristorante che ci piace il andare perché con un pezzo davvero conveniente si riesce a mangiare bene e tanto sì molto buono ci andiamo spesso ci piace molto troviamo di tutto ma quello che piace di più a noi è la varietà perché magari un giorno ci va di mangiare sushi e possiamo trovare lì possiamo magari mangiare del cinese e troviamo lì questa specialità poi troviamo anche della carne brasiliana molto buona e che questo ragazzo passa attraverso i tavoli e ti porta la carne molto buona saporita e tu non ti devi nemmeno alzare del tuo posto quindi c'è di tutto c'è di tutto cinese giapponese brasiliano e italiano molto buono infatti la famiglia i proprietari di questa catena di ristoranti hanno voluto da subito mischiare fondere più più stili di cucina insieme quindi oltre alla carne brasiliana servita sul piatto servita al tavolo troviamo anche risotti troviamo anche posto allo scoglio troviamo quello che è la cultura anche italiana mentre nei buffet prevalentemente c'è cibo o italiano o asiatico molto buono se vi capita andate a fare un site perché davvero molto buono lo troverete bene ma un prezzo assolutamente concorrenziale non esagerato riuscite a mangiare bene e di qualità e probabilmente assaggiate il cibo di tutto il mondo sì poi quello che ci tenevamo di più era a recensire questo posto perché davvero se lo merita troviamo sempre gentilezza troviamo sempre qualità pulizia e varietà che sostanzialmente quello che cerchiamo sempre è a un prezzo molto conveniente e loro sono molto molto disponibili tutti i camerieri anche i proprietari credo che sono sempre lì che troviamo sempre lì e quindi tutti molto gentili molto molto carini con tutti noi tutti noi quindi ci sentivamo di recensire questo posto perché davvero merita infatti sempre pieno c'è tantissima gente che ci va sia pranzo che cena e davvero ne vale la pena molto molto buono il nostro voto per questo ristorante all you can eat immenso pulitissimo con un grandissimo parcheggio con la gentilezza di chi lavora lì con la qualità del cibo che è cucinato tutti i giorni è molto fresco ne siamo consapevoli perché quando finisce c'è un'applicazione che loro usano tipo si chiama tu tu così quindi alla fine della giornata quello che avanza tu lo puoi comprare a poco prezzo e così loro possono diminuire gli sprechi ovviamente no e una volta un paio di volte lo abbiamo fatto e ci hanno dato quattro vaschette piene 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 a 5 euro mi sembra quindi ci tengono molto sicuramente a non sprecare il cibo non buttare il cibo e quindi merita sicuramente il nostro voto per questo bellissimo moderno ristorante è di 10 da 10 inoltre non dimentichiamoci fanno sempre eventi natale pasqua per il tuo compleanno fanno eventi anche social per cui sponsorizzare la propria foto nel loro logo quindi assolutamente 10 meritato andate a visitarlo se capitate in zona e recensitelo se riuscite perché secondo me a loro fa molto piacere sapere cosa ne pensa il pubblico del loro servizio grazie a tutti ciao ciao ciao